Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador per l'Italia di Beam Sanctuary. Oggi andremo ad assaggiare e degustare insieme la Freug Quarter Cask. La Freug Quarter Cask è un whisky no age statement, infatti non è specificato l'invecchiamento sulla bottiglia, ma sappiamo che dalle distillerie la Freug non esce un liquido che non abbia compiuto almeno 7 anni di gestazione. Un whisky che invecchia in botti ex bourbon provenienti dalla distilleria di Makersmark in Kentucky, più specificatamente all'oretto, e gli ultimi 6 mesi di gestazione gli passa vicino alla costa atlantica in botti da un quarto. Ovviamente si intende un quarto di botte grande, quindi in botti da 125 litri. Questo particolare invecchiamento fa sì che la superficie di contatto tra liquido e legno sia a favore del legno e quindi questo processo amplifica molto quelli che sono i sentori dell'invecchiamento. Un whisky voluto dal nostro master distiller perché assaggiandolo ricordava i whisky di 200 anni fa circa, i whisky della vera tradizione di la Freug. Al naso queste note che accomunano tutta la nostra gamma, quindi queste note iodate e salmastre, sono ben contornate da queste note invece spiccatamente fruttate, soprattutto di cocco e banana. In bocca una bellissima corrispondenza, questa nota affumicata e sapida lascia poi spazio a un finale più morbido, più dolce, che ricorda appunto come ci diceva il nostro naso i sentori del cocco e della banana, per finire poi con questa leggera fumosità che si percepisce meno rispetto ai whisky con invecchiamenti più lunghi. Slime tea.